Secondo me in questa strada non ci sono buche, ci sono voraggini. E purtroppo è impraticabile la strada, in questi casi succedono parecchi incidenti. A tre settimane dall'incidente in cui a causa di una buca nel manto stradale un centauro ha perso il controllo del mezzo sbandando e colpendo tre veicoli e riportando solo per un fortunato caso ferite non gravi, siamo tornati su via Petrarca a Casoria. È capitato anche a me, purtroppo la macchina di mio padre ci ha preso un fosso e ci ha avuto alcuni problemi meccanici. Secondo lei quante buche ci sono lungo questa strada, soltanto via Petrarca? C'è più buche che strada sana. Di preciso non lo so, ma penso più di una ventina. Noi abbiamo provato a contarle per davvero. Una strada scomoda e pericolosa quindi non solo per le autovetture. È impossibile andare in bici. È impraticabile. Mi adatto con gli amici, ma si deve aggiustare comunque. Voi cittadini vi siete già lamentati? Ma ci lamentiamo sempre noi. Qua è impossibile a Casoria fare segnalazione. Se il comune vuole evitare denunce, fate qualcosa, almeno aiutateci, almeno su questo.